Cari amici, oggi vi suonerò un brano del chitarrista seicentesco spagnolo Gaspard Sanz brano originale per chitarra a 5 ordini di corde, ossia 4 corde doppie dalla quinta, quarta, terza, seconda e il cantino singolo il brano in questione è molto famoso, si intitola Spanioletta è un brano dall'andamento ternario, semplice, non presenta particolari difficoltà questo brano trovate sulla mia antologia chitarrista classico autodidatta a livello facile completo di tablatura, se no lo trovate anche senza tablatura sulla Guitar Master Anthology Grazie a tutti! Se volete continuare a seguirmi iscrivetevi al mio canale YouTube e cliccate sulla campanella Ciao!